Cari socie e cari socie della Sinfer, formazione e aggiornamento della nostra società, si preannuncia un 2017 ancora più ricco di eventi e di iniziative nello spirito che abbiamo già voluto perseguire negli anni precedenti. Quindi vediamo una breve sintesi di quelle che sono le iniziative finora in corso, ricordandovi però che ce ne saranno altre ancora da sviluppare nel corso dell'anno. La prima e più importante ovviamente è il congresso nazionale, quest'anno tornerà dopo 25 anni a Genova, il tema come avrete visto dai nostri social è la riabilitazione, la abilitazione e riabilitazione nelle diverse fasi della vita, è un tema assolutamente importante e cruciale che esplorerà tutte le difficoltà, le sfide, i problemi che la nostra disciplina ha nel seguire e nel dare delle risposte adeguate alle persone nelle varie fasi della loro vita sia biologica che sociale e quindi è un tema di sicuro interesse anche per il grande pubblico e anche per il mondo delle professioni in generale. A questo tema saranno agganciati due altri importanti argomenti che sono i farmaci nella riabilitazione e le tecnologie per la riabilitazione che ovviamente proseguono nel filone di attività culturali e di approfondimenti che abbiamo già intrapreso nei precedenti congressi. Quindi l'invito è di collaborare tutti con i vostri contributi, prepararvi a venire a Genova in ottobre, dal 22 al 25 ottobre, nella sede molto prestigiosa dei magazzini del cotone affacciati sul bellissimo mare di Genova.